Io voglio andare via. Hunter, discuteremo di questo all'ora della terapia. Io me ne vado. E hai già pensato a cosa farai dopo? Aiuterò il prossimo. Ieri sera con Rudy ho creato un contatto con un altro essere umano. Non mi basta però. Voglio studiare le persone, aiutarle a risolvere i problemi che hanno. È quello che faccio io. Sì, ma lei è negato. Lei neanche guarda in faccia la gente quando parla. Io voglio ascoltare, ascoltare sul serio le altre persone. Desolato Hunter, non posso lasciarti andare via. Secondo me hai ancora punti su cui lavorare. Ah, non mi serve il suo permesso, mi sono ricoverato spontaneamente. Hunter, ti avverto. Sul mio rapporto scriverò CPM, cioè dimesso da questo ospedale contro il parere medico. E sul mio rapporto scriverò NM e NFB. Non me ne frega un benamato. E mi chiamo Patch. Ciao. 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 Ciao.